amici e amiche di talup benvenuti in questa veste molto speciale siamo qua al terra felici la casa della stella azzurra siamo qua con l'anima della stella azzurra germano d'arcangeli germano una stagione incredibile l'abbiamo seguita doppio scudetto 17 e 19 tutto secondo i piani o insomma qualche sorpresa no sapevamo sin dall'inizio di essere competitivi ce lo siamo augurati ma poi durante la stagione abbiamo scoperto in funzione di quelli che erano i nostri lavori quotidiani di essere di esserlo ancora di più e alla fine ma parlando della squadra 19 qualche scudetto nel suo trascorso l'ha vinto quattro scudetti la generazione 2004 invece il gruppo under 17 secondo me è stato fantastico sì è proprio questo gruppo su cui ci vogliamo concentrare l'abbiamo seguito durante la stagione si legge un po anche questa anima vincente che descriva che descrivevi anche nei tornei non fip nel senso non nelle cose ufficiali abbiamo ovviamente seguita in diretta tutta nella 9 più cap con il successo i vari tornei internazionali francia spagna grecia quanto è importante per voi lavorare con queste realtà che vanno anche al di fuori del vostro territorio direi fondamentale perché da sempre o perlomeno negli ultimi 15 anni abbiamo cercato di contaminarci l'abbiamo fatto al nostro interno ricorrendo a allenatori che magari non erano romani prima italiani e poi stranieri adesso abbiamo tanti ragazzi che non sono italiani e abbiamo voluto guardare a questo contenitore in maniera prospettica utilizzando altre lenti di ingrandimento e quindi farlo con tornei che ci hanno portato a competere contro le al madrid ma magari contro l'aris di salonico eccetera ci ha aiutato a misurare meglio benchmark al quale tendere che sennò diventa troppo autoreferenziale quando si viene qua an altero felice si vede giocare si percepisce che c'è qualcosa di diverso anche a livello di filosofia che si che scende in campo e a proposito delle esperienze ho sbagliato io nel non evidenziarlo c'è anche quella negli stati uniti dove non era proprio un vero proprio torneo lì ho visto che avete anche seguito un percorso d'allenamento insomma che avete fatto un percorso la quanto è stata importante all'interno di questa stagione un'esperienza di quel tipo ora credo di poter dire anche se non c'è un misurometro rispetto a questo fondamentale perché negli stati uniti non lo dico io l'idea è un perenne showcase l'idea di intrattenere da parte dei ragazzi è molto più presente che in europa il coraggio magari anche di mettersi nei guai sul campo non negoziare su alcune cose che l'atleta sente di dover fare in funzione della vittoria di una partita quello credo renda l'esperienza per i ragazzi fondamentale noi siamo andati là e siamo andati a disney world non solo perché in florida abbiamo visto effettivamente disney world ma siamo andati a competere contro monverde contro amg cioè contro i grandi sistemi americani in quella parte di quella nazione e abbiamo scoperto non era scontato di essere competitivi di poter giocare con loro di poter cambiare le regole da un giorno all'altro di poterle scoprire sulla nostra pelle insomma è stato talmente fantastico che ci va di ripeterlo ebbè questa insomma è già una grande notizia per tutti quelli che vorrebbero far parte di stella azzurra assolutamente e a proposito di stella azzurra di chi ne fa parte noi siamo italoop quindi un po di individualità ne dobbiamo parlare abbiamo parlato appunto di questa generazione 2004 di questo under 19 due individualità mi vengono fuori su tutte che sono ovviamente all'interno dei nostri ranking sono quelle di innocenti e visentin un percorso che a livello giovanile eclatante davanti a tutti anche insomma con i titoli che hanno vinto sei soddisfatto del loro percorso che cosa ti prospetti per loro a seconda difficile domanda effettivamente sono soddisfatto perché nella nostra testa ogni giocatore è un entità se ovviamente abbiamo sempre detto effettivamente lo facciamo che l'individuo all'interno della nostra organizzazione viene prima della squadra Matteo è venuto qua con un grande fardello una persona estremamente conosciuta nel nostro ambiente con grandi caratteristiche secondo me è stato bravissimo soprattutto quest'anno a sostenere questo peso dell'essere un certo tipo di persona di doverlo dimostrare ogni volta sul campo di avere lo spotlight su di sé veniva l'anno scorso aveva vinto l'MVP nella tappa di Eurolega era stato un giocatore riconosciuto e riconoscibile alle finali nazionali a Ragusa aveva avuto un certo spazio in a2 è stato bravo quest'anno anche nei momenti più difficili a auto corroborare il proprio spirito e a resistere a certe sollecitazioni e devo dire che alla fine dal punto di vista anche tecnico molto migliorato anche quest'anno sulla capacità di gestire una squadra di palleggiare con entrambe le mani di fare un tiro sotto pressione Emanuel partiva un po' più di rincorsa una persona fantastica non che Matteo non lo sia ma colpisce il sorriso la serenità con cui sta nelle nelle cose nelle sue e nelle cose degli altri e il compagno di squadra che tutti vorrebbero e soprattutto un androide dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale è stato in grado di costruirsi un tiro molto affidabile credo non non la passi bene se tu giochi contro di lui perché dal punto di vista difensivo è effettivamente impressionante e quindi anche per lui ci vorrebbe un applauso per quanto virtuale veramente ha l'impegno profuso le prospettive per entrambi sono abbastanza chiare abbiamo scelto di mandarli al college hanno diverse possibilità magari faremo una prossima diretta per scoprire dove sono commit dovranno scegliere stanno facendo delle visite pensiamo che il loro percorso debba essere incubato in un'area quella dove ho detto prima non solo ci si diverte ma di fatto si sviluppa questo tipo di business loro tutte e due per caratteristie fisiche per caratteristie mentali per capacità accademiche sono proprio il modello il prototipo ideale il biotipo ideale da aiutare con quel tipo di scelta è una scelta non banale anche a livello di indicazione e vabbè nel senso che stella tenda agli stati uniti non penso sia un grossissimo segreto e credo che anche questa ne risia la dimostrazione e invece spostandoci sulla categoria under 17 quella che abbiamo seguito questa immagino sarà un pochettino più complicata da commentare visti gli interessi però se io devo tirare fuori i due nomi e qui è proprio personale e questi ho tirati fuori io a me due personaggi mi sono venuti fuori che mi hanno colpito durante tutta la stagione e sono quelli di piccerilli e d'arcangeli dovrebbe suonarti familiare come noi sì in effetti sono altri due figli uno di sangue uno acquisito sono due giocatori che nel corso della stagione sono andati in maniera esponenziale evidenziandosi crescendo sono altri due ragazzi che andranno negli stati uniti all'high school sono soprattutto due persone stanno bene insieme stanno bene con gli altri di loro mi viene in mente di entrambi in maniera diversa perché il carattere diverso e sono stati bravissimi a evitare di essere drama on the stage hanno cercato di magari risolvere le loro cose senza dover per forza spiegarla a nessuno recitare una parte sono diciamo da padre lo dico di un figlio particolarmente orgoglioso di questa cosa e soprattutto l'altra cosa che che si evidenzia è che non hanno bisogno di essere anche la utilizzando dei termini che non sono italiani i robot player cioè non non hanno la necessità di possedere la palla 500 volte di fare 500 tiri di mettersi in evidenza in questo modo mio figlio riesce a far giocare una squadra ne ammiro moltissimo da allenatore ma evidentemente anche da padre la serenità con cui lo fa sul campo è invidiabile io non la riconosco quindi non sono tratti ereditari è una cosa su cui ha lavorato su se stesso ma devo dire che anche axel positivo è sempre d'aiuto a tutti gli altri ovviamente devono migliorare dal punto di vista fisico dal punto di vista tecnico su alcune situazioni per esempio in difesa e mai lì questo si evidenzierà di più perché tendono gli americani a soverchiarti dal punto di vista fisico però sono sicuro si divertiranno sì e se mi concedete un piccolo commento personale in entrambi i casi la cosa che ho trovato più incredibile è la capacità nei momenti chiave della partita di decidere chi è che deve ricevere la palla e chi è che deve gestire il pallone sintomo di una maturità e di un'intelligenza gestistica veramente di alto livello e qui insomma i complimenti vanno fatti assolutamente a voi perché si vede che avete lavorato su questo aspetto e si percepisce anche commentando le partite abbiamo parlato no abbiamo parlato tanto degli Stati Uniti di Estra effettivamente i due campionati i due scudetti vinti quanto sono stati usiamo questo aggettivo stimolanti per voi quest'anno ma insomma è una risposta complicata da dare ovviamente vincere fa sempre piacere quello che avevamo a disposizione erano quei campionati e quindi adesso diciamo sostanzialmente non possiamo sputare sul piatto dove abbiamo mangiato in questi ultimi 10 12 anni la strada fa degli investimenti non solo economici anche risorse umane progettuali cerca di estrarre valore da tutto quello che fa e comincia un po quel tipo di esperienza a segnare il passo per le nostre cose non non mi piace pensare di come posso dire cercare di essere sempre diverso dagli altri però in questo caso comincia a diventare indispensabile necessario in funzione del fatto che cominciamo ad avere degli obiettivi a un'ingiusta distanza sono un po troppo facili la squadra under 19 quest'anno ma l'anno scorso e anche l'anno precedente in costanza di covi da livello regionale non ha mai perso una partita la squadra under 17 di fatto la stessa cosa se se si punta a un certo tipo di competizione e magari noi lo facciamo comincia ad essere non adeguato ok e quindi insomma il vero motivo per cui siamo qua quello di cui insomma vogliamo parlare di fatto che cosa c'è nel futuro della stella azzurra la storia nel 2023 2024 guarda il futuro della stella azzurra è un po complicato da tratteggiare perché insomma siamo spesso sotto la lente di ingrandimento quest'anno abbiamo avuto anche una crisi reputazionale non solo a livello d'immagine ma anche a livello di coscienza per cose che tutti quanti conoscono ma sono diciamo ormai diversi mesi che che ci interroghiamo su quello che possiamo fare rispetto ai nostri ragazzi fondamentalmente se c'è una premessa almeno filosofica da fare è che immaginiamo che non si debba più solo curare la performance del giocatore che è una delle cose che credo abbiamo fatto bene perché siamo riusciti a generare dei giocatori che hanno giocato a qualsiasi livello ma in funzione della nostra esperienza vorremmo traghettare un certo modello a un altro modello e quindi andare un po più sull'esperienza un po meno sulla performance l'esperienza di un ragazzo è vincere una partita ma magari anche giocarla l'esperienza di un ragazzo è negli stati uniti ma è anche non so in cina reggio calabria o aosta quella che quelli più bravi di me definiscono la customer experience adesso diventa un po il nostro core business stiamo sviluppando a 360 gradi intorno all'atleta diversi sistemi diciamo in una visione olistica per cercare di portarli da qualcosa a un'altra cosa ma abbiamo evidentemente bisogno di porre al centro della nostra attenzione sostanzialmente quattro temi questi quattro temi sono effettivamente liberi di fare tutto quello che è necessario fare per diventare dei giocatori professionisti io credo che loro cominciano avere i nostri ragazzi parlo cominciano avere dei problemi dobbiamo andare a fare delle partite certe volte giocandole cercando costrizioni nella partita per poter ottenere certi risultati l'altra domanda è sono effettivamente felici c'è differenza tra essere felici e essere felici perché qualcosa ti genera felicità credo che probabilmente felicità per loro possa essere prendersi un po più cura di loro stessi e quindi di evitare di avere una periodizzazione basata su eventi agonistici stringenti che li portano a fare delle cose e a non farne altre a gestire le loro emozioni fino in fondo a non doverle solo coprire mi hai detto prima che sei rimasto ammirato della loro capacità di sotto pressione arrivare a prendere decisioni mi domando qual è stato il prezzo sulla loro emozione sulla voglia di piangere disperatamente o ridere a crepapelle adesso senza voler per forza anche qua fare fenomeni in un certo senso quello che quindi vogliamo generare un nuovo ecosistema almeno per noi stessi non vogliamo costringere nessun altro lo diciamo con molta umiltà vogliamo cominciare a pensare di andare a settembre a londra perché vogliamo andare a settembre a londra non perché siamo costretti a farlo vogliamo far giocare tutti i ragazzi senza dover per forza soddisfare tutta una serie di criteri di regole noi siamo stati quelli che sono stati accusati di aver utilizzato soprattutto giocatori stranieri e lo dico con orgoglio l'abbiamo fatto ci piace se questa è un'accusa ci piace questa cosa ma oggi già questo sarebbe più complicato da gestire in italia noi siamo quelli che siamo andati a fare il campionato di a2 a roseto siamo andati a veroli per cui casa è dove ti senti bene questa è casa nostra in via flaminia lavoriamo sui ragazzi ma casa potrebbe anche essere in spagna in giamaica o in sudafrica piuttosto che in un'altra città italiana ci interessa invece costruire un percorso per i ragazzi molto difficile perché deve diventare taylor made su ognuno di loro ci interessa dare la possibilità dei ragazzi che sono di roma che che giocano qui a roma di avere la stessa chance che c'è un ragazzo di tallin piuttosto che di duala di giocare a basket e quindi oggi ci stiamo interrogando non abbiamo risposte continuiamo a porci delle domande sicuramente la prima cosa che faremo è quella di evitare di costringere noi e gli altri evidentemente ci è sembrato fossero costretti molti a giocare con noi quindi non faremo i campionati d'eccellenza lo diciamo da diverso tempo lo diciamo da anni ovvio adesso il momento è quello che è sembra che non so ci sia una coercizione della volontà da parte di qualcuno di qualcosa ma continuando a procrastinare a rimandare non arriveremo mai a una soluzione non possiamo soddisfare tutti quindi cominciamo col soddisfare quelli che la scelta l'hanno fatta hanno scelto secondo in accordo al libero arbitrio di venire qua di mettersi la stella sul petto e per loro credo siamo disposti a fare qualsiasi cosa anche a giocare diciamo in futuro competizioni che oggi sembrano molto molto distanti dalle nostre cose questo è anche il motivo che ci ha portato per esempio a rinunciare a un anno dall'acquisto del titolo al campionato di a2 diciamo il mondo dei senior mondo della seniority oggi non è più una cosa che ci sentiamo di portare avanti dal punto di vista economico dal punto di vista mentale dal punto di vista delle risorse pensiamo che a fare impresa su quell'ultimo chilometro possano essere non so i college americani o altri club che sono più preparati più capaci di noi a farlo il nostro è un percorso preciso per gente che deve stare qua con noi 3 o 4 anni e poi trovare altrove le giuste soddisfazioni i campionati di eccellenza vedremo oggi è un po' complicata non solo perché li abbiamo vinti ma anche perché ci costringono a delle cose tra molte virgolette ovviamente costringono che ci piacciono di meno ok una risposta assolutamente molto più che esaustiva insomma stella non chiude se questo ve lo stavate chiedendo anzi mi sembra che abbia un progetto ben chiaro davanti a sé e che la strada io mi auguro ma sono praticamente certo sarà assolutamente limpida e erosea io ti ringrazio e spero insomma che questa questo contenuto questa intervista sia utile anche un po a tutti voi su quello che sarà il percorso di questa grande società grazie mille a tutti alla prossima